Che esperienza hai vissuto in questi mesi? Bellissima, divertente. Cosa avete realizzato? Ci hanno fatto cucinare e conoscerci meglio perché abbiamo collaborato. Ecco, la collaborazione è importante. Quanto è la collaborazione importante nella vita in generale? O è meglio fare le cose da soli? Tu cosa ne pensi? Che è bello fare le cose in gruppo. Perché? Cosa ne ricavi? Perché stando insieme siamo più forti. Vi sostenete. Che progetti avete nel futuro? Qualcuno ha qualche progetto? Diventare una regista. Che bello, bellissimo. Tu invece? Calciatore. Calciatore. Barista. Disegnatore. E cosa farete per realizzare questo sogno? Studiare. Studiare poi? Fare tanta pratica. Tanta pratica.